La Feralpi saloperde, il derby dell'acciaio. La sfida tra gli amici imprenditori, Pasini e Gozzi, premia il numero uno degli ospiti. Gardesani, bravi e sfortunati, nel tenere vivo una sfida in salita dopo il gol di Guazzo. Un K.O. Amaro che lascia il verde-bru al decimo posto a cinque lunghezze dalla zona play-off, con sei gare ancora da disputare. Privo di Pinardi e dell'Orco, Beppe Scienza, schiera in avvio una squadra con il 4-3-3. In attacco rientra Ceccarelli, mediana spazio a zampa, in difesa schierato Cinaglia. Dopo un primo brivido portato da Guazzo dalle parti di Branduani, corre il diciottesimo quando lo stesso attaccante porta in vantaggi suoi. Grande coordinazione è quella della punta ospite, con la palla che assume una traiettoria imparabile per l'incolpevole Branduani. Il vantaggio dell'Entella accende l'orgoglio della Feralpi salò. La squadra del patron Pasini si lancia alla ricerca del pareggio. Gol dell'1-1 che arriva puntuale al trentasettesimo. Tantardini, ben imbeccato da Bracaletti, viene atterrato in area di rigore. Penanti sacrosanto che Bracaletti trasforma con uno scavino che sa tanto di Totti e la Romana. Nella ripresa la Virtus Entella si chiude a Riccio nella propria metà campo, lasciando alla Feralpi salò l'iniziativa. Al terzo Ceccarelli sfiera il colpaccio, impegnando severamente il portiere. Al dodicesimo Paroni si salva alzando sopra la traverso una punizione di Bracaletti. Poco dopo il quarto d'ora l'episodio che potrebbe far girare il match definitivamente a favore dei gardesani. Troiano viene cacciato per un brutto fallo ai danni di Tantardini, ma incredibilmente al 29esimo arriva la doccia gelata, il 2-1 dell'Entella. Sugli sviluppi di un traversone di Staiti, Capitan Leonarduzzi entra male, deviando la sfera, alle sfalle di Branduani per il più classico degli autogol. È il gol che chiude la sfida. La sfortuna colpisce ancora una volta l'undici di scienza quando a tempo scaduto Miracoli coglie in pieno la traversa, alimentando i rimpianti verde-blu.